qui tre giorni ma io ho scoperto stasera che c'è un paese più piccolo di Pignà che si chiama Dignano è una frazione ma da stasera diventa comune è talmente piccolo che ho fatto ucciduto un paese per quando io ho finito a farlo mi sono visto i tacchi di scarpe pensate quanto è piccolo ragazzi che vado a dire? non so se lo sapete ma noi quando ci chiama sulle feste ci chiama per dire stronzate siete stati avvisati? e invece ti fa tutta sta fine no ragazzi dicevo noi altri venimmo da Pignà è un paese piccolo talmente piccolo che ultimamente purtroppo è morto un amico nostro e non siamo stasera dello spirito giusto perché sapete quando muore uno su un paese lo conosce tutti quest'amico nostro si chiamava Romeo era molto conosciuto in paese perché praticamente questo Romeo era conosciuto perché era un suo aveva la tanganella ecco io volevo un pochetto più dolce era un super dotato no? sapete questi che e allora che